... Posso andare? Sì. Sono autorizzato? Sono autorizzato. Perfetto, si va. Ma sì, in fin dei conti, che ce frega. Perché fare sempre un video al chiuso quando ci sono queste belle giornate? Il programma televisivo che viene menzionato all'interno di questo video è prodotto e trasmesso da Discovery in real time. Il sottoscritto non fa parte della produzione o del team di realizzazione di questo programma. Tutti i valeri espressi sono di carattere personale e non rappresentano le opinioni ufficiali della produzione o della rete televisiva. Ebbene sì, purtroppo mi tocca fare oggi invece un video all'aperto quando avrei preferito farlo nel mio solito classico ambientino perché ho il mio computer in riparazione. E questa cosa non potete sapere quanti problemi mi sta creando in questi giorni per il lavoro e quindi anche per questo video. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati qui sul canale per un altro nuovo video a tema Matrimonio Pianista Italia. Oggi parliamo della puntata della Reunion. C'è tanto a dire? Beh, un pochino sì. Adesso approfondiamo insieme, ma devo trovare un momento in cui ti da un po' meno vento per settarmi. Vedi quanto è più bello farla a casa? Mannaggia i peci secchi. E non avendo il computer a disposizione, purtroppo, sono costretto a montare il video con l'iPhone. Quindi non ci sono le varie grafiche, però io confido lo stesso in voi. Confido nel vostro like, confido nel vostro iscrivervi al canale e nei vostri commenti. Ragazzi, vi devo dare una missione. Arriviamo a 500 like a sto video, perché se arriviamo a 500 like, poi c'è una bella sorpresa per voi. Vi darò un video extra a tema Matrimonio a prima vista su una riflessione molto importante che vorrei condividere con voi prima della puntata conclusiva dell'E poi. Perciò vi aspetto qua sotto, eh. Anzi, visto che ci stiamo, scrivete voglio il video tra i commenti. Per favore. Ragazzi, il video di oggi non è sponsorizzato da nessuno, perché Marco Rompietti Video non mi ha pagato la parcella settimanale, pertanto niente sponsor oggi del video. Banda le ciance, direi di cominciare subito e andare dritti al punto. Io credo che noi dobbiamo dividere l'articolazione e la narrazione di questa puntata in due tronconi. Uno parlandovi di Fabio e Laria e l'altro di tutto quello che avviene nella reunion. Già, perché Fabio e Laria non fanno parte della reunion. E questo, devo dire, è un primo tema e perciò partiamo proprio da loro. Voi mi dovete spiegare che senso c'ha avuto mettere dentro questa coppia in una stagione nella quale Fabio e Laria non hanno praticamente mai fatto parte di questo gruppo. Non hanno mai conosciuto gli altri sposi, nemmeno la reunion. Hanno vissuto un matrimonio a prima vista a sé stante. Allora, che senso c'ha? Fabio e Laria quindi non fanno parte della reunion di matrimonio a prima vista. E qui torniamo al discorso che vi ho fatto in uno dei primissimi video di questa stagione. Ovvero che secondo me è piuttosto palese e lampante il fatto che Fabio e Chiara siano stati introdotti nel momento in cui le dinamiche delle altre tre coppie, specie quella dei toscani, erano dinamiche molto deboli, molto sottili e poco attrattive. E quindi si sono giocati la carta, la produzione, gli esperti, chi per loro, la carta di infilare questa quarta coppia. Che a questo punto però ci fa sorgere dei dubbi. Perché noi vediamo i ragazzi che entrano in reunion con addirittura un albero di Natale. E poi troviamo invece a Parma, non propriamente la città episodica del mondo, tutti a maniche corte. Quindi è chiaro che c'è una diversità di timing tra le due coppie che ci fa capire che quello che vi ho detto all'inizio di questa stagione, ovvero che questa genialata della quarta coppia in realtà poi tanto genialata non era. E ribadisco, il senso di inserire questa quarta coppia l'ho trovata una cosa veramente forzata. Per quanto Fabi e Ilaria ci hanno regalato le buone dinamiche, e parlando invece di quelle che sono le dinamiche appunto di Fabi e Ilaria in questa puntata, io devo dire che in questa puntata ho apprezzato tantissimo Ilaria. Ilaria che ho un po' criticato inizialmente perché aveva un eccesso di entusiasmo, che badate bene, ribadisco, è salutare, fa anche bene un po' al formato del programma avere dei protagonisti, specie ragazze così ben predisposte. Ma al tempo stesso spesso è stata un po' troppo ingenua. Ma certo, parliamo bene noi che vediamo le puntate, vediamo il girato, vediamo i confessionali, lei certe cose non le può cattare, anche se poi il linguaggio del corpo di Fabio a volte mi sembrava abbastanza chiaro ed evidente. Però devo dire che in questa puntata lei mi è piaciuta perché ha avuto la giusta reattività anche nel dire non è questo Fabio quello che io voglio dal nostro matrimonio. Comunque è difficile gestire fuori, eh, col vento, con la gente che passa, è complicato. E mi sono pure scortato gli occhiali da sole, un tempo andavo sempre in giro gli occhiali da sole e gialli, casino. Fabio, dal quanto suo, continua a essere una persona, almeno chiamiamola ambigua, a lui non piace lei, ce l'ha detto in più modi, non l'ha mai detto apertamente a lei, ma lui si vede che è proprio imbarazzato di fronte alla decisione, ma si vede tanto che lui è molto imbarazzato dal fatto che la moglie invece è particolarmente decisa verso l'esperimento. Tuttavia qualcosa si sta inclinando in questa convivenza nella provincia, nella bella provincia di Parma e nonostante la bella scena con la sorella di Fabio, Ilaria ha capito che forse c'è un'aria che tira che non va per il verso giusto. Sono sincero, non ho molto ben capito, o meglio, forse è meglio che non abbia ben capito il passaggio di Fabio che dice che lui non vuole una persona così decisa, che è sempre stabito da rincorrere, che quindi è spiazzato da una persona che comunque invece si dimostra presa e coinvolta da lui. E a Fabio, a che gioco stiamo a giocare? Ci stiamo a pie in giro? La verità, ribadisco, è che a lui non piace abbastanza lei, perché questo discorso del nella mia vita ho sempre cercato e trovato altre persone, non buca a marrimone a prima vista, perché tutte le convinzioni che una persona può avere sul suo rapporto sentimentale, sul suo modo di vivere i rapporti sentimentali, a un programma del genere, devono uscire un pochino dalla finestra, perché tu devi anche essere bravo ad aprirti a quel mondo che invece non hai mai considerato, altrimenti che c'è a fare a marrimone a prima vista, altrimenti continui a fare i tuoi stessi errori che facevi anche prima. E il grande rischio in questa coppia è che Ilaria si scotti, questo abbiamo detto più volte, però sono contento perché ho visto Ilaria che sta iniziando un pochino a prendere coscienza di questa situazione. Ad ogni modo, come sempre, anche su questa coppia, vi aspetto qua sotto tra i commenti per sentire che cosa avete da dire anche voi. E mentre sono arrivati dei simpatici bambini a rubarmi lo spazio dove stavo registrando, non mi pareva il caso di filmare anche loro, spostiamoci tra le rose tematiche della reunion. Cominciamo col di una cosa, io voglio capire a sto carnevale di Tenerife che cosa è successo realmente tra Enrico e Benedetta e ho come la sensazione che difficilmente sapremo mai che cosa è successo davvero. Perché molti degli scontri partono da lì, oddio, molti degli scontri sono partiti già dalla notte dopo il matrimonio, insomma, da prima di partire per il viaggio di nozze. Però è chiaro che qualcosa in quel viaggio di nozze, in quel carnevale, qualcosa è successo da Enrico e Benedetta e si fa anche un po' fatica a comprenderlo ora. Enrico da una parte ha ammesso di aver fatto un errore, però un errore a suo dire marginale, rimangono tutti e due della stessa posizione, rimangono nella stessa posizione anche però e soprattutto quando convengono che il giorno del matrimonio è andato bene. Ecco, il peccato forse per Enrico e Benedetta, secondo me, è non aver avuto la forza di ripartire da quel giorno in cui le cose sono andate bene. E questo signore mi ha guardato male, mi ha guardato malissimo. Un po' lo capisco perché sto parlando da solo. Ad ogni modo Enrico e Benedetta fanno parte di questa reunion in maniera proprio così, tanto per dare un supporto magari alle altre coppie e valorizzare di più o rivalutare diversamente i loro percorsi. Perché onestamente credo che per Enrico e Benedetta l'unico spiraglio ancora di argomentazioni che possiamo avere sarà nella prossima puntata quella della scelta. E sono curioso di vedere che tipo di confronto emergerà anche se non ho delle grandi aspettative considerato già quel pre-confronto che hanno avuto con Favaretto e Nata. Quindi non mi aspetto niente di che. Anche di Giuseppe Ilaria non abbiamo tantissimo da dire, ma forse per certi aspetti è un bene. Perché fondamentalmente ripartiamo da quella sorta di alchimia che abbiamo trovato nella scorsa puntata e la ritroviamo anche in questa. Devo dire una cosa, una delle cose più belle di questa puntata e forse anche dell'intera stagione è il sorriso mutato di Ilaria, la moglie di Giuseppe. La trovo veramente diciamo più coinvolta nell'esperimento. Mi dà quella sensazione che si è capacitata della bella occasione che ha trovato anche nel trovarsi appunto con un marito come Giuseppe che rimane un ottimo protagonista del programma. Con qualche cosa che poi andremo a argomentare alla fine dei giochi. Perché ricordate che a matrimonio a prima vista diciamo che i bilanci finali vanno fatti appunto alla fine. Però credo che la coppia Giuseppe Ilaria abbia beneficiato fondamentalmente di un aspetto che non hanno avuto termini paragonativi importanti. In altre stagioni di matrimonio a prima vista Ilaria e Giuseppe sarebbero state la coppia di mezzo. Cioè una coppia dove non si sa bene ancora dove si può andare a parare che poi è quello che secondo me ancora permane perché ancora non c'è questa forte alchimia fisica. Cioè c'è stato un bacio, non sappiamo se c'è stato di più, c'è sicuramente la complicità ma non sappiamo quanto altro in più ci sarà o ci sia stato. Però la pochezza di Roberto e Stefania da una parte e di Enrico e Benedetta dall'altra fa apparire loro due come i guru del programma. E questa è un po' una cosa che dimostra quanto questa stagione non sia stata particolarmente forte dal punto di vista delle dinamiche in matrimonio a prima vista. Se vogliamo dire quale è stato il vero coup de teatro di questa puntata potremmo dire che lo scazzo avvenuto tra Roberto e Stefania è sicuramente stata quella cosa un po' più inaspettata. Oddio, un po' ci aspettavamo perché abbiamo visto tutti il trailer della puntata precedente e quindi ci faceva un po' intravedere questo aspetto qua. A margine Nata, in un suo confessionale, la sessuologa e la psicologa Nata ha detto che è un bene che si siano scontrati loro due, certo con modalità discutibile ma è un bene. Io dico sì è un bene ma andava fatto prima questo tipo di confronto e secondo me questa coppia è stata lasciata veramente in balia degli eventi da parte degli esperti. Ed è un peccato perché se ricordate bene io intravedevo in loro un potenziale di lavoro quel potenziale che stiamo vedendo in Ilaria e Giuseppe, non credetevi, non molto di più, non molto di meno quel potenziale lì ce lo intravedevo ma non ci hanno fatto vedere praticamente per niente. Ma io invece che cosa ne penso di Roberto e Stefania? Dobbiamo partire dal presupposto che per me sono due belle persone prese singolarmente e credo che siano due persone che da questa esperienza non ne ricaveranno un gran che... questo è un peccato perché sono due persone appunto con delle qualità che non sono riusciti a far emergere nel programma. Fatta questa doverosissima premessa nella discussione avuta nella reunion mi sono sentito un pochino di più dalla parte di Roberto che non è in Stefania e mi spiego bene. È chiaro che nella reunion escono fuori gli altarini è chiaro e anche giusto che escano fuori delle cose non dette però l'attacco che ha fatto un po' Stefania a Roberto cioè quel dire che lui non è stato intraprendente nel saperla coinvolgere l'ho trovato un pochino poco gradevole. Mi sono messo nei panni di Roberto e ho pensato che in quel contesto lì è stato un po' come svilirlo in un rapporto che se non è mai nato ha colpe vicendevoli invece Stefania da quello che abbiamo visto noi dà molto addosso al marito che sicuramente ha le sue responsabilità di ripeto in una coppia che non funziona le colpe sono a 360 gradi a partire dagli esperti sono a 360 gradi dicevo però secondo me è stata un'uscita di Stefania un po' poco gradevole quindi il risentimento successivo di Roberto che si ha rosicato palesemente rosicato un po' però lo capisco mi metto nei suoi panni un po' lo capisco perché in fin dei conti i matrimoni si fanno in due e se Roberto non ha avuto tanta intraprendenza è perché poi Stefania non gli ha dato tutti questi grandissimi spiragli e ne è uscito fuori quel rapporto anche un po' rancorosetto che vedendo le altre puntate uno poteva pensare che non ci fosse e che invece a quanto pare c'è e c'è stato e poi qui voglio soledicare la vostra curiosità perché nel confronto finale quando si dice ok che facciamo anche in una chiacchierata diciamo risolutiva tra Stefania e Roberto Stefania dice voglio tornare a casa e da come hanno montato il tutto sembra che volessero farci intendere nel montato nella regia che loro due vogliono tornare a casa per darci un'altra possibilità ma secondo me loro due volevano dire ok il nostro esperimento finisce qui però magari ce lo confermeranno loro quando torneranno sui social dopo la puntata e poi se questa mia percezione è sbagliata o meno io credo che l'esperimento di Stefania e Roberto non sia mai partito realmente sia morto già al viaggio di nozze e credo che la reunion abbia rappresentato per loro la fine certa della loro esperienza a matrimoni a prima vista poi magari mi sbaglio eh ebbene volendo fare il gioco dei voti che tanto mi piace fare ogni tanto io a questa puntata reunion do un 5 e sono deluso perché in genere a puntata reunion è quella che più aspetto quando inizia la stagione ci sono stati alcuni guizzi mi è piaciuto il confronto comunque ecco mi è piaciuto vedersi confrontare Stefania e Roberto però onestamente mi aspettavo qualcosina di più che invece non è emerso insomma è una puntata un po' in linea con questa stagione onestamente un po' debole ripeto ragazzi obiettivo 500 like in questo video per portarvi una bella sorpresa la settimana prossima quindi vi aspetto qua sotto anche tra i commenti io quello che avevo da dire su questa puntata reunion ne l'ho detto e niente scusatemi per questa diciamo improvvisata gestione no del del video cioè fatto insomma non come gli altri un pochino più eh approfonditi anche tecnicamente curati bene perché questo è un video che ho fatto e montato col telefono fatto con l'Osmo Pocket 3 e con il telefono e niente torno a casa e cercherò faticosamente di montare questo video con lo smartphone che non monto un video con lo smartphone da un sacco di tempo ed è complicato credetemi e noi ci vediamo qui sempre con un prossimo video mercoledì prossima alle 20 commenteremo la scelta finale insieme e poi se siete stati bravi con i like esce subito dopo un altro video sorpresa ciao ciao